Ancora una brutta vicenda in Sardegna, questa volta però non si tratta di un incidente stradale né di spaccio detenzione di sostanze stupefacenti. Il fatto è un abuso sessuale su un minore. Un reato che, come la violenza sulle donne, sta divenendo sempre più diffuso e che quindi di conseguenza sta allarmando intere comunità sgomente e talvolta inerti davanti ad atti così crudeli. È un pensionato di 69 anni residente a Marrubiu, l'uomo arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri per prostituzione minorile e violenza. L'arresto è stato eseguito in flagranza di reato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno denunciato di aver notato il pensionato che, in compagnia di un minore, si dirigeva verso un vignetto di sua proprietà situato nella periferia del paese. Le violenze, hanno dichiarato il comandante della compagnia di Oristano, Francesco Giola, e il procuratore Domenico Basso nel corso di una conferenza stampa, sarebbero cominciate a luglio e sarebbero proseguite fino a settembre. L'uomo aveva descato il ragazzo chiedendogli di aiutarlo a curare il suo vignetto in cambio di un piccolo compenso da usare per pagarsi le vacanze. Dopo qualche giorno però avrebbe iniziato a fargli avanze esplicite, offrendogli 30 euro per ogni incontro. Il minore, sentito con l'assistenza di una psicologa, ha raccontato di aver ceduto di fronte alle esistenti richieste del pensionato. Il settantenne ha anche iniziato a minacciare la vittima, tentando di imporla ai nuovi incontri in cambio del suo silenzio. Ha anche tentato di coinvolgere il fratello più piccolo del ragazzino. Dopo l'arresto, il pensionato è stato rinchiuso in una cella della casa circondariale di Massama. Tagli, diritti negati, assistenza ridotta a lumicino, trasporti a singhiozzo. Sul tavolo degli imputati il taglio dei fondi destinati all'isola per il sostegno degli studenti disabili. Il Governo nazionale manifesta una volontà vessatoria nei confronti delle province sarde, che vengono escluse dal riparto dei fondi destinati all'integrazione scolastica degli studenti disabili. Ne dà notizia l'assessore degli enti locali Cristiano in Rio, la cui posizione è frutto di un preciso deliberato della seduta della Conferenza Permanente in Regione Enti Locali che si è tenuta lunedì 25 settembre, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle province e dei comuni. La Conferenza delle Regioni, ha aggiunto in Rio, su questo punto non ha dato l'intesa sulla proposta del Governo di portare da 112 a 75 milioni di euro le risorse da destinare alle sole province delle regioni ordinarie. La mancata intesa è stata registrata anche dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni. Trattandosi di risorse destinate a interventi di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado, l'atteggiamento del Governo appare particolarmente odioso. Qualora permanesse una tale rigida chiusura, occorrerà rispondere con un'adeguata mobilitazione per contrastare questa incomprensibile ostilità nei confronti della Sardegna e dei diritti dei sardi, lesi da scelte poco comprensibili. E' un'ulteriore penalizzazione per la Sardegna, ha aggiunto l'assessore della pubblica istruzione Giuseppe Dessena, e il fatto ancora più grave è che questa volta tocchi studenti con disabilità, quindi le fasce deboli della nostra società che dovrebbero, al contrario, essere tutelate. Nessuna premessa normativa può giustificare un'esclusione di questa natura. In queste ore stiamo ancora interloquendo e cercando di intervenire per risolvere questa incresciosa situazione. Mauro Porcu, sindaco di Tadasuni, nel Paese, si svolgerà il Festival Tadà, la prima edizione del Festival. Sì, proprio il 7-8 ottobre abbiamo questo appuntamento con questa manifestazione Tadà. Saranno una serie di eventi e sarà il primo Festival delle culture digitali e arti contemporanee. Niente, abbiamo cercato di creare un evento alternativo rispetto a quello che offre il nostro territorio, soprattutto da un punto di vista artistico, tentando di unire quelle che sono le arti tipiche della cittadina e della metropoli per portarla nel nostro Paese. Tadà Zuni è un Paese del Wilcher, in provincia di Oristano, che si avvaccia sul Lago Omoleo. Perché questo festival? Da cosa è nato? Quindi andiamo dietro le quinte un po' per capire. Praticamente Tadà inizia qualche anno fa insieme all'amministrazione guidata da Livio di Ligia. Allora si erano organizzate manifestazioni tipo presentazioni di libri, mostre di pittura, concorsi. Noi abbiamo voluto rivisitare quella versione di Tadà attualizzandola, diciamo, cercando di renderla più moderna possibile. Il fine è sempre quello di far conoscere il nostro Paese e rendere partecipi la popolazione. Tant'è vero che sono state effettuate delle interviste e delle fotografie. Poi tutto il materiale sarà messo a disposizione degli artisti, che lo, diciamo, renderanno attraverso le loro opere, le loro performance, tutto il materiale storico che abbiamo raccolto. Per artisti intendiamo che nei due giorni succederanno diversi eventi, tra cui un laboratorio di illustrazioni, una street art, poi ci sarà una mostra fotografica, dei convegni, diciamo, conversazioni sempre in abbinamento tra arti contemporanea e memoria storica. Poi cos'altro? Abbiamo poi il sabato sera, il giornata clou, diciamo, la sera, dove ci saranno le videoproiezioni di immagini sui muri e DJ set, Dusty Kid e Divert in Duo. Un aspetto importante del festival è che le arti contemporaneo si incontreranno con le tradizioni sarde. Sì, è un po' una sfida questa. Noi abbiamo chiamato più un'alternativa a quello che solitamente offre artisticamente il nostro territorio. Sarà un po' difficile, però il nostro obiettivo è proprio quello di rendere sempre viva la memoria storica, nell'epoca moderna, per cui tutto quello che si raccoglie verrà poi, diciamo, utilizzato anche come una sorta di ispirazione per gli artisti. Poi la riuscita ci auguriamo che sia positiva. Si chiama La Sapienza del Villaggio e punta sull'orgoglio dell'essere piccoli, decentrati, poco popolosi, ma ricchi di storie e tradizioni. La manifestazione di interesse è presentata dalle unioni di comuni Montiferro e Planargia, 20 comuni e 28.848 abitanti. Alvia dunque il percorso del progetto di programmazione territoriale presentato due giorni fa all'assessore della programmazione Raffaele Paci, nella sede della Fondazione Imnos a Sant'Ulusurgio, accolto dal sindaco e presidente dell'Unione di Comuni Montiferro, Diego Loi, e dal sindaco di Montresta e presidente della Planargia, Antonio Zedda. Se gli obiettivi e le azioni proposte nella manifestazione di interesse, sostenibilità istituzionale, sostenibilità sociale attraverso una rete di servizi avanzati nella sanità, nell'assistenza sociale e nell'istruzione per rendere l'area competitiva. Sostenibilità economica, dunque aiuti alle imprese che valorizzino le potenzialità verdi del territorio e incentivi all'apertura di piccole botteghe del villaggio. Sostenibilità ambientale, ovvero aree protette, piste ciclabili, rete sentieristica, gestione ambientale e protezione civile. Sostenibilità della cultura locale, promozione e informazione con azioni di marketing territoriale e promozione dei territori. Lo spopolamento è sicuramente un tema cruciale e fondamentale, dal quale non possiamo prescindere, però non basta parlarne. Bisogna fare, ha affermato l'assessore Paci, nel corso della riunione. Di sicuro servono i servizi, ma l'unica e sola cosa che può permettere a un giovane di restare e il lavoro. Un lavoro che si autosostiene quando si parla di agroalimentare, tradizioni, archeologia e ambiente. Si sta parlando di ricchezze enormi che altri non hanno e che si possono coniugare con il turismo creando opportunità uniche, con l'allargamento della stagione che porta a un turismo esperienziale legato all'unicità delle tradizioni, del cibo, dell'artigianato e della cultura. Una serata per celebrare il calcio in città. Giovedì 28 settembre, al Centro Federale di Sarodia, alle 19, tre dei più gloriosi sodalizi della città di Oristano scenderanno in campo per disputare un triangolare di calcio. Di fronte si troveranno delle società che hanno contribuito in modo determinante alla storia del calcio cittadino, ciascuna delle quali attualmente difende i colori della città nelle rispettive categorie, la Tarros in promozione e l'Oristanese in prima categoria e la Folgore in seconda categoria. L'obiettivo è quello di mettere da parte colori e casacche e di regalare una serata di calcio e amicizia alla città ed a tutti gli amanti di questo sport. Il calendario prevede che i primi a scendere in campo saranno la Tarros e l'Oristanese. Le due formazioni si sfideranno per 45 minuti. La perdente affronterà la Folgore. La perdente affronterà la Tarros e 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 la Tarros. Grazie.